Siamo della Vigor Ramezia, sta cercando una seconda punta centrale, sarà un'alternativa a Vincenzo Cosa. La Vigor è in cerca di una punta centrale che funga dall'alternativa al bomber Vincenzo Cosa che è di un portiere under per completare l'organico. Sono questi i nuovi obiettivi di mercato del club Biancoverdi, fissati dal direttore Maglia di concerto con il tecnico Rigoli e con la società. E' quanto emerso tra l'altro da un'intervista al DS Biancoverdi. Qual è il suo pensiero sull'arrivo della teccante Catania, un ottimo calciatore, conosciuto e stimato in queste categorie, ha giocato anche in seconda divisione e ha vinto tre campionati di D. C'è da aspettarsi qualche altra operazione all'entrata. Innanzitutto ci tengo a dire che il nostro è un organico già importante e valido. Tuttavia vogliamo che sia numericamente folto perché il campionato di D è lungo, difficile, la concorrenza interna sana e giusta, è importante e ci vuole perché fa rendere meglio tutti e fa bene al gruppo. Il mister deve avere delle alternative. In un campionato di D non bisogna mai abbassare la guardia. Avete già individuato i giocatori che fanno il caso per la Vigor Lamezia in queste caselle vuote da ricoprire? Abbiamo individuato già qualche giocatore in questi ruoli e abbiamo aperto delle trattative. Vedremo tra queste quale riusciremo a concludere prima. è un articolo sulla Gazzetta del Sur a pagina 23 per la Vigor Lamezia.